ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo come cambiare i freni della nostra macchina i freni a disco anteriori prima cosa smontiamo i primi due bulloni qua dietro che tengono in sede la pinza del freno a disco mi raccomando di eseguire le operazioni in tutta sicurezza con non solo il cric ma anche necessari cavalletti sotto l'auto in modo da evitare danni li estraiamo e li mettiamo da parte dopodiché togliamo dalla sua sede la pinza e per prima cosa ci occupiamo di rimandare indietro il pistoncino centrale che esercita la pressione tramite il liquido dei freni della pinza del freno a disco potete farlo con un con un morsetto di quelli a vite oppure con una pinza del genere in base a quello che che avete magari o siete più comodi effettuata questa operazione la pinza la mettiamo da parte e ce ne occuperemo più tardi ora provvediamo ad estrarre le pastiche vecchie dal disco e adesso smontiamo il resto della struttura in modo da poter liberare il disco e poter cambiare anche quello sempre con la nostra chiave a cricchetto vediamo i due bulloni e sganciamo ora ricordiamoci di ci sono due viti al centro che vanno allentate fatte con il cacciavite adatto e magari prima date due colpi con il martello in modo da smuovere un pochino tutto quanto il disco perché nel tempo con la corrosione potrebbe essersi bloccato ora ingrassiamo la parte centrale vicino al mozzo e andiamo a mettere il disco nuovo nella posizione corretta con le viti corrispondenti ingrassiamo anche le due viti che sostengono la pinza agganciata intorno al disco e li andiamo a rimettere rimontiamo il tutto fissiamo il disco con le nuove viti fornite dal rivenditore se sono presenti altrimenti utilizziamo quelle vecchie ora lubrifichiamo la parte dove si agganciano le pasticche nuove e le andiamo a rimettere nella posizione corretta rispettando appunto la forma della pinza e del disco lubrifichiamo anche i bulloni e lubrifichiamo allo stesso modo anche le parti della pinza che vanno a contatto con il dorso delle pasticche e il pistoncino anche che va a spingere sulle pasticche stesse usate grasso che non corroda la gomma ora rimettiamo i bulloni e riavvitiamo il tutto dopodiché possiamo anche rimontare la ruota e abbiamo fatto spero di essere stato utile a qualcuno vi ringrazio per la visione e al prossimo video vi ringrazio per la visione